Amici, buongiorno, siamo qui collegati con il campo dell'ERTA Berlino, al Training Centrum. Abbiamo uno dei più grandi talenti della Germania, il giocatore Selke. Giocatore, un centravanti di grandi possibilità, atletico, qualche lacuna tecnicamente, però è uno che avrà un grande futuro. Passarsi dal suo... Ah, allora, se... Si, parla italiano. Io pensavo, che Selke parlava un po' di italiano, invece non parla proprio niente, neanche un cinque centime. Und, quali ci sono dei sentimenti per il giorno di soltanto? Bene, bene, superi sentimenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.